Bentornati! Dopo cento giorni la Cinema Eden riaccende il suo schermo e lo fa con una proiezione sotto le stelle. Ci è mancato tanto, vedere un film in un ambiente diverso da quello casalingo perché a casa bene o male ci si distrae e non c'è la stessa atmosfera. Il Cinema Eden ha riaperto le sue porte alla città nella sua cornice più luminosa, l'arena estiva ovviamente nel rispetto delle attuali ordinanze anticontagio. Dunque termoscanner all'ingresso per la misurazione della temperatura, gel, mascherine obbligatorie e due accessi separati per i possessori del biglietto acquistato online e per chi invece si reca al cinema accedendo dalle casse. Rigorosa anche la disposizione delle sedute, privilegiando la sicurezza e il distanziamento sociale. Era un'arena da 300 posti, adesso è da 100 appunto e quindi evidentemente anche i rischi a mio avviso sono molto più limitati rispetto a una sala al chiuso. Quindi insomma si può venire in tutta tranquillità. Ad Arezzo la programmazione estiva è ripartita dai miserabili, poi spettacoli da giovedì a domenica, ma senza problemi non ci sono infatti i titoli. Le luci 100 giorni fa non si sono spente solamente nel cinema ma anche sui set. Noi speravamo di poter aprire anche con qualche novità, invece la distribuzione in questo momento non mette a disposizione. È vero che molti film non sono stati completati perché ovviamente si sono interrotte anche le produzioni, però alcuni film che erano pronti, che erano stati anche annunciati per uscire nei mesi di marzo e di aprile, in realtà in questo momento la politica delle case di distribuzione è quella di tenerli ancora in attesa. L'importante comunque adesso resta di partire proprio da dove tutto si era interrotto ormai 100 giorni fa. Qualsiasi film ci fosse stato saremmo andati. Perché? Perché dopo tutto questo tempo di chiusura delle sale troviamo opportuno un ritorno al cinema.